Parlare nell'ambito di allerte rischio da cibo e che preme moltissimo a tutti, riguarda le allerte nelle menze, ma soprattutto nelle menze scolastiche, perché c'è stato anche ultimamente un incidente in una demenza che ha riguardato il nostro territorio e questo genera tutta una serie di rischi. Allora, citiamo l'ultimo caso che è avvenuto, la presenza segnalata da un bambino o da una maestra di un verme in un piatto di una menza scolastica, da lì è partito il sistema d'allarme. Allora, cosa è venuto fuori, che cosa è successo e che cosa è stato attivato? Noi abbiamo fatto i controlli sul cosiddetto campione testimone, cioè ogni scuola tiene sempre un cibo, una porzione di ogni alimento somministrato ai bambini, proprio per vedere se accade qualcosa per capire di cosa si tratta. In questo caso il campione testimone è risultato negativo, stiamo continuando, cioè non c'era nulla, non c'era nessun parassita, e stiamo continuando a fare altri controlli. In questo caso era molto importante non buttare via il pezzo di pesce in cui il bambino ha visto questa cosa. Dalla descrizione, trattandosi di un piccolo filo scuro, posso ipotizzare che non fosse un verme perché sono in genere bianchi, e l'anisakis o il terranova, insomma altri parassiti che potevano trovarsi nel merluzzo, erano un pezzo di merluzzo, sono bianchi e un po' diversi. Però sicuramente poi queste preoccupazioni poi generano ansia e altri comportamenti magari che diventano più a rischio. Senta, ma quando avviene questo voi fate il controllo sul cibo, però automaticamente viene da pensare anche al livello di igiene delle cucine, per esempio, che riguardano le mense. In quel caso voi attivate un sistema d'allerta coordinato con gli altri enti che sono deputati dei controlli, tipo l'ARPA per andare a fare, o l'ufficio di igiene per andare a fare un controllo, oppure il vostro è un intervento che si limita alla sicurezza del cibo? No, assolutamente, fondamentale l'ispezione nei locali e che facciamo noi, fanno anche tante altre realtà, perché forse semmai in Italia cosa accade spesso è una sovrabbondanza dei controlli che forse potrebbero essere anche un po' resi un po' più siregici. Siregici, sì. Però un passo fondamentale è proprio il controllo dell'igiene delle sedi dove si producono i cibi per i bambini. Questi vengono fatti regolarmente, il livello di igiene è veramente altissimo. Noi facciamo anche ad esempio controlli proprio sulle superfici di lavoro del luogo di preparazione, dove si... Il luogo di cottura è proprio... Sono quasi più affidabili che accadono, perché appunto sono sottoposti a tutti questi controlli. Ma cosa accade, anche in passato è successo, cosa accade quando invece si riscontra che un cibo è davvero contaminato o un ambiente è davvero non conforme alle norme igieniche? Si chiude un posto, ma poi che cosa, quale processo parte? La comunicazione viene fatta all'ASL e quindi tutto l'affare viene all'ASL che prende i necessari provvedimenti. Chiaramente qualunque alimento che risulta non conforme, così diciamo, non conforme intendiamo che non risponde alle criteri di sicurezza dettati dall'Europa, viene ritirato, vengono fatti controlli sugli alimenti della giornata nel caso o della partita se c'è di cibo che arriva. No, il livello è veramente altissimo, però dobbiamo tenere conto che parliamo di numeri enormi. La sfida è grandissima, 50.000 paste ai bambini al giorno a Torino devono essere tutti uguali, tutti buoni, tutti rispettosi del territorio, tutti equilibrati dal punto di vista nutrizionale, tutti costar poco. È veramente una sfida. È veramente molto complicata.